Ciao ragazze, secondo video tag del canale, stavolta è un video tag in collaborazione con il gruppo di Facebook Beauty Addicted che sto adorando, mi hanno aggiunto da poco sul loro gruppo, sono delle ragazze davvero fantastiche quindi sono davvero felicissima di rispondere al loro video tag le domande a cui risponderò sono 15, ce le ho sul computer qui vicino e iniziamo subito la scelta è ardua perché in realtà le palette che ho mi piacciono tutte perché se le scelgo io vuol dire che mi piacciono però la mia scelta ricade su 4 cioè la Vice 2 di Urban Decay che è una delle mie preferite la Electric di Urban Decay che ho acquistato ultimamente la Acid di Sleek e la palettina Kiko, quella della collezione Dark Heroine però se proprio dovessi sceglierne una credo sia la Vice 2 la Vice credo sia la mia preferita perché è la prima palette in edizione limitata che abbia mai comprato a parte quella di Kiko sole, così comunque sì, penso alla Vice 2 perché è la prima palettina in edizione limitata di una marca high end che abbia mai acquistato allora su questa domanda di cui ho un massimo di 3 non lo so allora, il massimo 3 prodotti quindi sicuramente l'eyeliner io non vivo senza, almeno io perché penso che cambia totalmente il look ad un ad un make-up poi credo il mascara e la terra la terra bronzante sia quella normale che quella per il contouring riesce a dare davvero dimensione al viso un po' di colore soprattutto se si è bianca e mozzarella quasi come me io un gioco di mare l'ho fatto ok, terza domanda vediamo io di Marche ne ho provate davvero poche perché dalle mie parti non c'è la Sephora c'è davvero poco imbarazzo di scelta credo che sia Essence io l'ho scoperta per caso 3 anni fa a Milano avevo bisogno disperatamente di un eyeliner e di una matitanera perché avevo finito i miei e entrai nella coin a Milano e ho scoperto Essence a parte il packaging un po' da bimba io l'ho sempre detto ah il packaging davvero un po' da bimba penso che abbia davvero tanti prodotti in testa ce ne sono due quello nero di Cinecittà e quello nero di Kiko quello nero di Cinecittà mi piace la consistenza, la stesura perché è davvero omogeneo si stende davvero bene l'unica pecca è che purtroppo il pennellino si è ridotto in condizioni pietose e io sono costretta ad applicarlo con un pennello a parte quello di Kiko ha la punta in feltro si applica bene mi piace il colore mi piace che poi diventi leggermente opaco solo che se io sudo solo un pochino di più io me lo ritrovo dappertutto il peggior eyeliner che ho mai provato in vita mia è stato uno di quelli a penna di Essence ne ho provati due la prima volta ci sono rimasta malissimo perché quando l'ho preso scrivevo benissimo ah ok è durato poco l'entusiasmo il secondo idem la peggior marca che ho provato non lo so per il momento credo nessuna poi vi faccio il tag aggiornato e vi faccio sapere tra qualche anno credo di ripetire l'eyeliner Essence quello in penna a me personalmente i prodotti mi hanno dato mai reazioni l'unica reazione che ho avuta è stata con la spugnetta per il fondotinta che era davvero rovinata e mi sono ritrovata la faccia rossa come la mia maglia il prodotto che ti ha dato più problemi sì quello perché si stendeva in modo terribile la durata era quella che era dopo quanto una settimana che l'avevo comprato il nero era praticamente quasi inesistente sì penso di aver speso 8 euro per due eyeliner inutilmente allora in ogni mio make up non manca mai come vi ripeto l'eyeliner perché io non vivo senza la matita nera il mascara e per me il fondotinta non manca mai no perché se io mi vesto di rosso e mi voglio truccare di verde mi vesto di rosso e mi trucco di verde non mi interessa allora se parliamo di make up normalmente porto le cose con cui ho fatto il trucco prima di uscire ho una terra mini già nella borsa quindi quando mi serve all'occorrenza ce l'ho ho una mini cipria nella borsa con i due pennelli essence quello per il blush e quello per la cipria e porto i pennelli con cui ho fatto il trucco se invece parliamo di prodotti in andy make up cosa che dubito comunque il cellulare il 3ds non mi manca mai i giochi del 3ds e il più delle volte un libro allora definitivamente è senza cioè senza discutere l'eyeliner l'eyeliner e il mascara anche se 5 minuti per truccarmi e faccio la base e non ho tempo metto il mascara metto tanto mascara faccio le ciglia e sono a posto invece ho 6 minuti allora metto l'eyeliner e mascara domandona dipende da che devo fare io durante la giornata se devo andare all'università è un orario abbastanza prestino allora ci metto davvero poco più o meno 10 minuti 10 minuti per la base e perda sì un minuto per gli occhi se invece ho più tempo che è una mattina ma comunque devo uscire ci metto la mia mezz'oretta però sì normalmente dai 10 ai 30 minuti rossetto il mio must io di rossetti uso davvero pochi perché non mi piace quella sensazione di appiccicoso che danno sulle labbra è la sensazione che rimane quando il rossetto si asciuga che voi parlate con le labbra impastate come se avete mangiato troppa nutella cioè il mio must il mio must in assoluto penso rimane lui il rouge volupte shine numero 18 che avete visto nel tutorial sulla laurea questo brutto quasi viola ma neanche troppo che mi fa praticamente impazzire dipende dall'occasione se non mi vado a truccarmi e ho sotto mano poche cose nude con la naked 2 se devo suonare io se devo cantare io che è la mia serata dipende più delle volte faccio un trucco scuro mi piace il contrasto capelli sciolti trucco scuro da morire se mi sento un po' così color il mio pennello preferito in assoluto è il pennello da blush di cinecittà che sta all'interno del baulotto che ho uscito in continuazione questo è il numero 26 purtroppo è venuto via ed è la setola è fatta purtroppo in pelo animale questo è pelo di pony se non mi ricordo male ed è sicuro è di una morbidezza assurda poi ha una setola ampia sfuma davvero bene sia la terra sia il blush quindi ottenete con questo un effetto naturalissimo ok l'ultima domanda un appello a tutte quelle che mi seguono allora un appello che faccio a quelle che mi seguono è di continuare a seguirmi anche se faccio video purtroppo raramente però li faccio quindi non ve ne andate cioè vedete che ogni tanto io mi faccio vedere purtroppo non ho tempo sto preparando la tesi sto preparando gli ultimi due esami della triennale quindi da adesso in poi sarà un momento freneticissimo un appello che faccio alle beauty addicted che sono le ragazze del gruppo è di non cambiare mai perché sono da poco nel gruppo mi sembrava davvero ragazze simpaticissime e di iscrivervi al mio canale perché voi siete tantissime un appello che faccio invece alle youtuber famose io vedo le youtuber famose come dei modelli diciamo da seguire mi piace quello che fanno non di tutte però mi piace quello che fanno scusate è andata via luce tipo per mezzo millisecondo forri fa un tempo di merda sì allora purtroppo le youtuber famose sono diventate famose prima di noi perché loro hanno dato il via a questa moda dei tutorial su youtube quindi noi più che altro siamo delle piccole copie di loro l'unico appello che faccio non è tanto fateci pubblicità no però della serie ragazze voi che mi seguite vedete che su youtube ci sono tante ragazze brave non dico che dovete seguirle però date un'occhiata cercate rimanete fisse qua youtuber famose ci siamo anche noi poco famose sconosciute sperdute nei angoli d'italia e niente ragazze questo era quindi il tag vi ricordo in collaborazione con le beauty addicted e vi lascio il link qua sopra qua sotto vedo quindi un bacione spero vi piaccia la postazione nuova che la luce non vi dia troppo fastidio se ditemelo io risolvo non vi c'è non vi c'è non vi c'è Grazie.